E' stendere al più presto la campagna vaccinale anche ai volontari della protezione civile e alle altre associazioni di assistenza. Appare infatti in tutta la sua paradossale evidenza che dall'inizio della campagna vaccinale italiana ancora non siano compresi nella programmazione dell'attività i volontari che si adoperano in prima fila quotidianamente, così come invece è accaduto per altre categorie che giustamente sono già state vaccinate. Purtroppo ad oggi ancora non lo sappiamo e nonostante abbiamo fatto richiesta tramite le commissioni territoriali del volontariato direttamente al Dipartimento di inserirci nella vaccinazione, ad oggi il censimento da parte del Servizio Emergenze della Regione Abruzzo è stato fatto ma noi non ci hanno ancora comunicato quando potremo vaccinarci. E' chiaro che capiamo la difficoltà nell'organizzazione di una vaccinazione di massa in una situazione come questa anche alle porte della terza ondata, però è vero anche che insieme alle forze dell'ordine e agli insegnanti in questo momento sarebbe il caso di pensare anche ai volontari che comunque supportano quotidianamente le amministrazioni anche per le vaccinazioni. Non solo per noi come volontari che comunque ci mettiamo costantemente a rischio da un anno a questa parte nell'assistere i positivi, nella logistica agli ospedali, ma anche per le categorie che andiamo ad aiutare durante la vaccinazione. C'è stata la vaccinazione degli ottantenni e noi li abbiamo aiutati a compilare i moduli, ad accedere alle sedi per la vaccinazione. Quindi comunque anche per loro secondo noi è necessario mettere al sicuro queste persone che comunque vengono costantemente assistite da noi. Nel ringrazio, vorrevo approfittare per ringraziare il sindaco di Teramo, D'Alberto, e il vice sindaco Cavallari che è alla delega alla protezione civile perché con un gesto da non sottovalutare hanno scritto al ministro Speranza per perorare la causa dei volontari. Quindi ne approfitto, visto che non sempre le amministrazioni sono così attenti alle necessità dei volontari che comunque costantemente supportano le attività del COC e dei centri operativi comunali. Grazie. Grazie.